Credo che la quarantena, quando ormai il virus sappiamo che non è più contagioso, sette giorni dovrebbero bastare come qui in Francia. Io ho fatto due settimane di quarantena, mi sembrano lunghissime. Se vogliamo fermare il Paese dobbiamo fare così. Perché oggi la notizia, ad esempio, che in Ombardia, che era considerata il simbolo del Covid, oggi i decessi zero di ricoverati in malattia, in Covid-19, credo, intensiva, meno uno, meno due. Però la cosa che vorrei credere a tutti questi professori, il Covid-19 come malattia primaria, malattia primaria vuol dire che non ci sono altre patologie, perché io non riesco a capire. Noi stiamo fermando il Paese, io capisco le regole, capisco le mascherine, credo che Trump ne mandosi la mascherina non è giusto, perché la mascherina ci vuole, le distanze ci vogliono. Però dobbiamo anche fare attenzione di non fermare un Paese. Io oggi ho fatto Milano, 20 miglia non c'erano macchine sull'autostrada, non c'erano camion. Ieri Milano i ristoranti sono chiusi, gli alberghi vuoti. Io sono stato un albergo molto importante, 400 camere, 22 camere occupate. Noi non possiamo fermare un Paese. Io sono d'accordo con tutti i professori e tutto quanto, il professor Ramuzzi, il professor Galli, ma noi non possiamo fermare un Paese, ragazzi. Oggi in Lombardia, che era considerata l'inizio, il focolaio più importante, oggi c'è sì zero. Guardiamo, quando leggi un tanto di una società, io leggo l'ultima riga, c'è scritto EBITDA, quanto guadagno, quanto perde. Noi dovremmo anche leggere quanti morti ci sono e quante gente che è ricoverata come Covid-19, come malattia primaria, che non ci siano altre patologie. Io questo vorrei chiedere al professor Galli. Quando tu parli di malattia, quando ti parla di Covid-19 come malattia primaria, non qualcuno che ha già altre patologie molto severe. Perché chiunque muore, muore di Covid. Qui fermiamo un Paese anche, ragazzi. Qui fermate un Paese. Io vorrei sapere, dal professor Galli, quando parliamo di Covid-19 come malattia primaria? Allora, io non so se chiamarla primaria o no, so, e lo chiedo la conferma al professor Galli, so che i dati ci dicono che le persone che muoiono, nella stragrande maggioranza, hanno almeno tre patologie. In genere, o delle cardiopatie, o sono diabetici, o sono obesi, o hanno un tumore. Le persone che muoiono sono soprattutto persone anziane, che non credo che in questo Paese possano essere considerati vuoti a perdere, se muoiono chi se ne importa. Assolutamente no. Abbiamo avuto recenti esempi, anche molti illustri, riescono a volte a cavarsela o addirittura a passare la malattia in maniera del tutto indifferente. Abbiamo dati che dimostrano che quasi un terzo anche dei molti anziani fanno una malattia apparentemente del tutto asintomatica. Quindi, conta molto, più che il discorso delle tre patologie che si aggiungono, conta molto come si è messi individualmente e gli elementi sono parecchi e estremamente variabili. Certamente l'obesità ha un peso, certamente il diabete ha un peso, certamente la presenza di una broncopneumopatia cronica, cioè di una malattia polmonare cronica ha un peso, certamente anche una cardiopatia ha un peso, però ci sono cardiopatici, broncopneumopatici e diabetici che superano la malattia e qualcuno la supera, pur essendo magari molto anziano, apparentemente senza un sintomo di rilievo. Vede bene che di fronte a una realtà composita di questo genere, che ci ha abituato a dover ragionare paziente per paziente, quando ci ritroviamo pazienti ricoverati con un impegno clinico importante, davanti a una malattia di questo genere le generalizzazioni sono abbastanza pericolose.